La granicchia velocità è in buona, scanta in testa la chiacciola, si tira dal montone, l'onda, l'Aquila, l'Istrice, in testa continua la prima curva di San Martino, abbiamo la chiacciola, seguite dal montone, l'onda, l'Aquila, Selva, Provo, l'Istrice, la privata è incasata, aiuto, sempre in testa la chiacciola però è seguita, poi si tenta a testa dall'onda, sta rascurando, è cascata la torre, è cascata la torre, è cascata anche l'Istrice la seconda curva di San Martino, sempre in testa la chiacciola, secondo il montone, terza l'onda, stava fecchiatuto il truffo, è cascato i bruschelli, seconda curva del casato, chiacciola, montone, onda, Selva, Aquila, è ancora in testa la chiacciola ma sta recuperando terreno la contrada dell'onda, l'onda sta superando la chiacciola, l'onda è in testa, chiacciola, montone, Aquila, Selva, è passata in testa la ronda, l'onda è in testa, seguite dalla chiacciola, ancora il montone, e vince l'onda, vince l'onda, vince l'onda, grandissimo Mario, vince la contrada, la contrada dell'onda, c'è stato un paio molto complesso, non aveva mai vinto Carlo Sanna, detto brigante, sei pali torsi, nessuno ha vinto il popolo, dell'onda gioisce, ecco vedete il capitano Alessandro Toscano che sta esultando sul palco abbracciando anche i suoi fiduciari, è incredibile, l'ultima vittoria, abbiamo detto che Porto Alabe aveva forso dieci pali senza mai vincere, questo è il decimo, esatto, questi nove senza mai vincere, il decimo ha vinto invece, ecco c'è un po' di confusione, di grande giubilo, vediamo che ci sono dei cavalli che vengono ripressi, guardate il capitano della contrada, i capitani, le dirigenze delle contrade, ricordiamo che l'onda l'ultima vittoria era il 16 agosto del 2013, e le dirigenze delle contrade,